ciao a tutti ragazzi bentornati sul canale johnnyotto siamo a eilat per affrontare la semifinale del nostro johnny cingomba contro mitchell vediamo un po quello che succederà scusatemi abbiamo battuto nei quarti di finale un buon oma osce ma non ha resistito al nostro servizio che è migliorato man mano che si avanzava nel match abbiamo vinto per 3 a 2 3 a 1 quindi primo set al tablick 3 a 2 poi 3 a 1 il secondo schiacciante veramente adesso andiamo verso la semifinale vedremo che giocatore sarà il nostro avversario benjamin mitchell l'australiano a 50 come punteggio quindi potrebbe essere un match abbastanza duro da affrontare abbastanza duro da affrontare perché abbiamo 10 punti totali in più rispetto a noi e quindi insomma dobbiamo dobbiamo mettercela tutta assolutamente dovrà funzionare la nostra prima di servizio che abbiamo visto fa la differenza veramente tantissimo e non dovremo incombere in errori clamorosi quali doppi falli quali errori gratuiti insomma dobbiamo mantenere altre statistiche di colpi vincenti e prima di servizio e bassi le statistiche degli errori gratuiti partiamo in ricezione in risposta questa volta voglio rispondere perché voglio vedere di che pasta ha fatto il mio il mio avversario in questo match quindi proviamo subito con il turno di risposta si inizia ragazzi ha un buon servizio se gli entra la prima attenzione però attenzione il passante diciamo ma non si fa pregare 0 15 ha una prima da 167 km orari anche 170 vediamo un po come va stavolta però non lì è entrata 0 15 seconda di servizio o il nastro lo aiuta parecchio ragazzi il nastro lo aiuta parecchio su questa vole mi è andata molto bene prende la linea avanza ancora proviamo il lobby non lo prende il lobby 15 30 è aggressivo sale spesso a rete quindi dobbiamo stare attenti a quello che fa come adesso è come ne ha l'occasione sale a rete ragazzi 30 pari quindi dobbiamo abituarci a questo stile di gioco probabilmente vediamo se lo rifarà di nuovo no stavolta non occorre perché con un bel contropiede va 40 30 stavolta però non entra la prima 15 in gomma vuole attaccare subito vediamo se lo fa no che passante pensavo di sbagliarlo invece è venuto fuori un bel colpo ragazzi un bel colpo grazie alla posizione che comunque era giusta anche sul tempisto il tempismo scusate non c'era spalanchiamo il dritto 40 pari quindi seconda di servizio si pesca di nuovo il contropiede vantaggio mitchell ah brutta risposta chiude qua il servizio quindi 1 a 0 buono 15 0 5 in gomma parte bene lunga questa prima no 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 ho fatto la finta di andare di là 15 pari ancora la prima di servizio che non ci vuole entrare ragazzi e questo non va bene perché abbiamo assolutamente bisogno della nostra prima di servizio ma di nuovo il contropiede bravissimo bravissimo 15 30 ragazzi attenzione non va ancora la prima non ci credo le regaliamo due palle break 15 40 anzi due set point oltre che palle break questa voglio vederla perché hanno chiamato fuori ragazzi ma era buonissima quindi si ripete il punto no bruttissima questa qui bruttissima cioè proprio non ci siamo ragazzi non ci siamo gli consegniamo il primo set così con un doppio fallo incredibile il nostro cingoma non riesce ad essere continuo sul servizio quanti punti che sbagliamo e regaliamo eh ci pesca sempre il contropiede ragazzi c'è poco da fare è attento il nostro avversario servizio al corpo che funziona bene 30 0 finalmente un errore anche da parte sua 30 15 ci regala un 15 almeno lo muoviamo un po' più in feggio buono questo sulla riga 30 pari la reazione di johnny cingoma uh attenzione il nastro ci dà una mano attenzione 30 40 palla break cingoma attenzione approfittiamone subito mi raccomando la sbaglia ce la dà lui ragazzi quindi 1 a 0 c'è il break secondo set che si mette sulla buona strada fondamentale la nostra prima di servizio adesso eccolo l'ace eccolo 15 0 con l'ace peccato che stavolta non entra lo aggrediamo con un colpo potente 30 0 bella prima di nuovo ragazzi bella prima schiacciamo bene 40 0 bel punto questo ce lo rivediamo perché è stato veramente bello schiaffo vincente di cingoma 37 point attenzione secondo 7 che si è subito involato bene con quella palla break ne abbiamo subito approfittando approfittato siamo calmi adesso non vogliamo straffare subito cerchiamo di difendere intanto bene poi pensiamo dopo quando sarà il momento di aggredirlo lo faremo a lunga questa peccato era larghissima ci ha buttato fuori 40 15 una volta funziona bene il servizio vediamo se lo sfruttiamo bella roba 0 2 2 0 quindi siamo al terzo 7 terzo 7 ragazzi vediamo un po se riusciremo di nuovo a metterlo giù subito sulla giusta strada sulla buona strada per noi sbaglia il contropiede qua mi c'è lì 0 15 ci pensa lui ad aiutarci ci lascia libero tutto il campo 0 30 andiamo chiamata a farli straordinari mitice quindi adesso la palla un po dubbia era quella lì è no però era dentro vedo la sagoma non attacchiamo qua che era bassa questa va larga buono 0 40 tre palle break ragazzi incredibile dal 2 0 iniziale è cambiato totalmente il match tutto a favore nostro grazie insomma ai nostri buoni colpi c'è il break e anche agli errori che sono aumentati del nostro Mitchell e quindi ci consegna di nuovo il break in apertura di terzo set ho voluto provare a tirare la seconda ma ho sbagliato 0 15 se doppio fallo che non ci stava proprio stavolta entra almeno la seconda largo 15 fari 15 non ha più le distanze giuste Mitchell buono questo servizio è dritto a due punti dal match cingomma attenzione attenzione a due punti dalla finale del torneo johnny cingomma attenzione adesso ha un punto 2 match point vediamo se chiudiamo in bellezza con l'ace sarebbe spettacolare no non lo chiudiamo con l'ace purtroppo cambiamo angolo eccolo forse il punto che ci vale la finale del torneo di Eilat ragazzi game set e match johnny cingomma per 0 2 2 0 2 0 si chiude qua una semifinale strana dove all'inizio sembrava che non ci fosse nulla da fare perché il nostro Mitchell non sbagliava un colpo le entrava sempre la prima ci aggrediva ci attaccava rete poi tutto in un colpo i suoi errori dei punti gratuiti sono aumentati come vedete a 8 noi li abbiamo contenuti a 2 abbiamo una prima di servizio che non va tanto bene però siamo riusciti comunque a vincere qualche punto con la prima di servizio e quindi va bene abbiamo un'esa a favore due doppi falli a sfavore ma tutto questo ragazzi tutto questo ci è valso la finale del torneo la nostra prima finale del torneo di un torneo del circuito e quindi sono felicissimo andiamo a vedere contro chi giocheremo giocheremo contro lopez quindi ragazzi tanta tanta roba tanta roba lopez che ha fatto fuori l'ultima testa di serie numero 7 leonardi quindi sarà ce ne sarà da vedere delle belle in questa finale sicuramente nel torneo di elatte speriamo di fare un buon match per riuscire appunto a a vincere il torneo perché sarebbero punti importanti per noi e soprattutto anche per il nostro morale ci farebbe veramente veramente bene io vi ringrazio di essere stati con me ragazzi ci diamo appuntamento qua nel prossimo video per la grandissima e attesissima finale del torneo di elatte cingomma lopez grazie di essere stati con me se vi va iscrivetevi al canale seguite le pagine social il canale viola tutto in descrizione come sempre ci vediamo nei prossimi video ciao ciao